Una promessa sul centro storico la possiamo fare, in particolare riguardo Piazza Vecchia. Ci sono molti nostri visitatori del sito di Gallia 2000 che rivendicano che Piazza Vecchia in particolare è abbandonata ad altissimo tempo. Possiamo strapparla adesso una promessa che il neo-assessore possa provvedere immediatamente a risolvere questo problema. Prometto di impegnarmi a farlo, prometto di impegnarmi a farlo, se poi ne avrò la possibilità questo adesso purtroppo non lo so.